Vai, vai, vai! Difendete l'area di atterraggio. Gold Eagle sta atterrando. Ripeto, Gold Eagle sta atterrando. Copriteli! Muoversi, muoversi! Allargarsi! Ordinate di mitragliare il crinale! Ricevuto! Piume a posto. Passo. Stiamo per iniziare la perlustrazione del canyon dall'accesso a nord. Passo. Lo vedo. È proprio qui. Intruso avvistato. Nemico alla mia posizione. Passarella a posto. Visibilità al 100%. Passo. Tempesta di sabbia. Per ora non si vede granché. Passo. Ricevuto, Oxide. Siamo sulla passerella, verso la sauna. Rimanete in attesa. Ricevuto, Oxide. Attendete. Oxide, qui dissipo il 6. Dalla sauna. Nessun segno di 5. Passo. Impossibile. Abbiamo appena perlustrato l'area. Oxide, nessuno è talmente... Carica sulla porta piazzata. Pronti a fare eruzione. Area ingresso sicura. Irruzione, irruzione! Ricevuto, Oxide. UAV attivato. Tenetevi pronti. Oxide, qui Avatar 1. Personale non autorizzato sulla passerella. Ripeto, personale non autorizzato sulla passerella. Oxide, qui dissipo il 9. Abbiamo contatti ostili a circa 50 metri dal nido. Passo. Disipo il 3 in discesa. Butcher 2 in discesa nel settore Papa Quebec. Oxide, qui Butcher 5 Actual. Ho un detonatore danneggiato. Ci vorranno 10 minuti per caricare e avere tutto pronto. Passo. Preparatevi ad agire. Dalla torre la visibilità è bassa. Dovrete eliminarli a terra. Fuoco a volontà. Fateli fuori. Oscar e Romeo. Perlustrate l'area dell'esplosione. Procedura Papa Alpha. Ricevuto. Via. Situazione Alpha. Bravo. Zulu. Ricevuto Disipo il 4. Terminate la ricognizione e rientrate. Zulu segnala una forte tempesta di sabbia in arrivo. Passo e chiudo. Disipo il 4, qui Oxide. Qual è il vostro stato? Passo. Disipo il 4, qui Oxide. Mi ricevete? Passo. Ehi, Disipo il 4, la strada della Cresta Nord non risponde. Magari è colpa di un trasmettitore difettoso. Ricevuto Oxide. Vi mando Vincent e Lambert. Passo e chiudo. Disipo il 5, qui Oxide. Fatemi rapporto. Passo. Disipo il 5, qui Oxide. Fatemi rapporto. Passo. Disipo il 5, qui Oxide. Mi ricevete? Passo. Disipo il 5, qui Oxide. Rispondete. Passo. Disipo il 6, abbiamo perso contatto con Disipo il 5. Controllate. Passo. Qui Oxide a Disipo il 6. Abbiamo trovato due corpi all'ingresso posteriore. Intensificate le attività e perlustrate l'area. Disipo il 6, silenzio radio. Irrompere e ripulire. Disipo il 9, la vostra retroguardia è appena andata. Avatar 1, qui Oxide. Abbiamo perso contatto con diverse squadre nei pressi della sauna. Vi serve una ricognizione visiva sulla passerella. Passo. Avatar 1, invia i dati della telecamera al database per il riconoscimento facciale di Langley. Passo. Attendete ulteriore. A tutto il personale, attenzione. Abbiamo due contatti a piedi sulla passerella diretti verso la vedetta. Eliminateli con estrema cautela. Batcher 1, 5. Punto di incontro al nido. Preparatevi a scortare Gold Eagle all'atterraggio. Negativo. Gold Eagle vuole quelle cariche innescate in meno di 3 minuti. Procedete. Passo. A tutte le squadre. Attenzione. Nemico identificato. Si tratta di Ex-Sass e Task Force 141. Avvicinatevi con estrema cautela. Passo. A tutte le squadre. Attenzione. Le forze nemiche sono costituite da Ex-Sass e Task Force 141. Avvicinatevi con estrema cautela. Passo. La tempesta di sabbia si intensifica. Troppi rischi per le attività aeree. Sì, signore. È nel raggio di 100 metri dalla vostra posizione. Ricevuto. Ordine di ingaggio. Pericolo ravvicinato. Batcher 7. Qui Oxide. Abbiamo perso contatto con Dissepal 5. Probabilmente è la tempesta in arrivo o un trasmettitore difettoso. Mandate una squadra a verificare. Passo. Dentro. Via. Operativo Foxtrot. Per lustrare a sinistra. Procedura di ricerca Eco Charlie. Via. Occhio agli angoli. Sono qui. Aprite il fuoco. Tenetevi pronti. Stanateli. Gold Eagle. Qui Castrel 3-2. Siamo sopra il bacino. Non vi vediamo. Passo. Ricevuto. Contatto visivo stabilito. Attacchiamo. Eccoli. Attacchiamo il bersaglio. Contatto visivo stabilito. Ingaggiamo. Bersaglio acquisito. Ingaggiamo. Sono dappertutto. Non riesco a prendere la mira. Questi non fanno che muoversi. Datemi un attimo. Bersaglio in vista. Bersaglio agganciato. Ce l'ho sottotiro. Ok. Ora è quasi ben allineato. Ricevuto. Apro boccaporto. Stare sopra i 30 nodi. Occhio alla distanza di sicurezza verticale. A tutto l'equipaggio. Gold Eagle è a bordo. Andiamo. All'equipaggio. Tempesta di sabbia ore 12. Opteremo per la rotta più lunga. Tenetevi. Attenzione. Stiamo inviando unità RPG sui ponti per intercettare Price e McTavish. Alle squadre sui ponti. Munitevi di RPG e intercettate ogni nave che insegue Gold Eagle. Little Bird in arrivo. Tempo stimato 40 secondi. Ricevuto. Supporto UAV disponibile tra 10 secondi. Missili aria a superficie pronti. Quando vuole, signore. Ricevuto. Missile lanciato. Ricevuto. Missile lanciato. Fox 3. Fox 3. Warhorse 5-1 operativo. Il Pave Low è sul fiume, signore. Attenti a dove sparate. Ehi, attenti a dove sparate. Attenti a dove sparate. Fuoco amico. Fuoco amico. Bersaglio agganciato. Bersaglio in vista. Contatto visivo stabilito. Vedo un bersaglio. Bersaglio sott'occhio. Ho un contatto visivo. Rilevo movimento. Movimento! Vedo movimento. Sta cercando di scappare. Abbiamo un contatto. È in movimento. Contatto in movimento. Sono in movimento. Il bersaglio è in movimento. Granata! 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 Granata, muoversi! Granata, muoversi! Granata! Granata! Granata, muoversi! Granata, via da qua! Granata, via da qua! Tango a terra! Tango a terra! Preso. Bersaglio neutralizzato. Bersaglio neutralizzato. Me ne vado. Me ne vado. Cambio caricatore. Cambio caricatore. Ricarica. Ricarica. Copritemi! 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 Cessare il fuoco! Fateli fuori! Fateli saltare in aria! Fatelo fuori! In movimento! In movimento! Sto andando! Sto andando! Uomo a terra! Uomo a terra! Abbiamo un uomo a terra! Abbiamo un uomo a terra! Uomo a terra! Uomo a terra! Ricevuto, lo vedo! Ricevuto, bersaglio agganciato! Ricevuto, lo vedo! Ricevuto, bersaglio agganciato! Non posso sparare! Non posso sparare! Non posso sparare! e fuori dalla mia traiettoria, ricevuto, 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 nemico avvistato, ci servono rinforzi, ricevuto, ci muoviamo, abbiamo l'intruso, attivate l'allarme, rinforzi in arrivo, intrusione, chiudete tutte le uscite, mandate rinforzi, vi stiamo mandando aiuti, abbiamo l'intrusione, mi servono rinforzi, stiamo mandando rinforzi alla vostra posizione, abbiamo il nemico sottotiro, stiamo arrivando, aspettate, vedo l'intruso, è armato, i rinforzi sono in arrivo, tenetelo occupato, lascia l'arma, butta la terra subito, messaggio ricevuto, vi mandiamo subito dei rinforzi, mani in alto, adesso, cosa diavolo è stato, abbiamo un problema, andate a controllare, via, via, c'è stata un'esplosione, muoversi, l'ho sentita, sto andando, uomo a terra, perlustrate il perimetro, è morto, bloccate tutte le uscite, adesso, uomo a terra, sparpagnatevi e perlustrate l'area, ho trovato un cadavere, cercate un intruso, non fa niente, riprendo il mio giro di pattuglia, non ho trovato niente, riprendo il mio giro di pattuglia, non era niente, torno alla mia postazione, non ho trovato nulla, ma state attenti, niente da segnalare, occhi aperti, potrebbero esserci degli intrusi, non era niente, ma state allerta, tutto sotto controllo, riprendo il mio giro di pattuglia, tutto sotto controllo, perlustrate i vostri settori per ogni segno di attività sospetta, eh, cosa, c'è qualcuno? Un attimo, potrebbe esserci qualche problema, aspettate, penso che possa esserci un intruso, aspettate, un attimo, forse vedo qualcosa, eh, chi è, eh, cos'era quel rumore? Ho sentito qualcosa, aspettate, penso di aver visto qualcosa, aspettate, ehi, c'è qualcuno? Attenti a dove sparate, ehi, attenti a dove sparate, attenti a dove sparate, fuoco amico, fuoco amico, bersaglio agganciato, bersaglio in vista, contatto visivo stabilito, vedo un bersaglio, bersaglio sott'occhio, ho un contatto visivo, rilevo movimento, movimento, vedo movimento, sta cercando di scappare, abbiamo un contatto, è in movimento, contatto, in movimento, sono in movimento, il bersaglio è in movimento, granata, 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 muoverci, granata, muoverci, granata, 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 fino da qua, granata, fino da qua, tango a terra, tango a terra, preso, bersaglio neutralizzato, bersaglio neutralizzato, me ne vado, me ne vado, cambio caricatore, cambio caricatore, ricarica, ricarica, copritemi, 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 cessare il fuoco, fateli fuori, fateli saltare l'aria, fatelo fuori, in movimento, in movimento sto andando, sto andando, uomo a terra, uomo a terra, abbiamo un uomo a terra, abbiamo un uomo a terra uomo a terra, uomo a terra, ricevuto lo vedo, ricevuto, bersaglio agganciato, ricevuto lo vedo, ricevuto bersaglio agganciato, non posso sparare, non posso sparare, non posso sparare, è fuori dalla mia traiettoria, ricevuto, 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 nemico avvistato, ci servono rinforzi, ricevuto, ci muoviamo, abbiamo un intruso, attivate le allarme, rinforzi in arrivo, intrusione, chiudete tutte le uscite, mandate rinforzi, vi stiamo mandando aiuti, abbiamo un'intrusione, mi servono rinforzi, stiamo mandando rinforzi alla nostra posizione, abbiamo il nemico sottotiro, stiamo arrivando, aspettate, vedo l'intruso, è armato, i rinforzi sono in arrivo, tenetelo occupato, lascia l'arma, butta la terra, subito, messaggio ricevuto, vi mandiamo subito dai rinforzi, mani in alto, adesso, attenzione, rpg, 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 cosa diavolo è stato? Abbiamo un problema, andate a controllare, via via, c'è stata un'esplosione, muoversi, l'ho sentita, sto andando, uomo a terra, perlustrate il perimetro, è morto, bloccate tutte le uscite, adesso, uomo a terra, sparpagliatevi e perlustrate l'aria, ho trovato un canavere, cercate un intruso, non fa niente, riprendo il mio giro di pattuglia, non ho trovato niente, riprendo il mio giro di pattuglia, non era niente, torno alla mia postazione, non ho trovato nulla, ma state attenti, niente da segnalare, occhi aperti, potrebbero esserci degli intrusi, non era niente, ma state allerta, tutto sotto controllo, riprendo il mio giro di pattuglia, tutto sotto controllo, perlustrate i vostri settori per ogni segno di attività sospetta, cosa, c'è qualcuno? Un attimo, potrebbe esserci qualche problema, aspettate, penso che possa esserci un intruso, aspettate, un attimo, forse vedo qualcosa, eh, chi è? Cos'era quel rumore? Ho sentito qualcosa, aspettate, penso di aver visto qualcosa, aspettate, ehi, c'è qualcuno? Attenti a dove sparate, ehi, attenti a dove sparate, attenti a dove sparate, fuoco amico, fuoco amico, bersaglio agganciato, bersaglio in vista, contatto visivo stabilito, vedo un bersaglio, bersaglio sott'occhio, ho un contatto visivo, rilevo movimento, movimento, vedo movimento, sta cercando di scappare, abbiamo un contatto, è in movimento, contatto in movimento, sono in movimento, il bersaglio è in movimento, queste hanno addosso armature pesanti, preparate i proiettili al teflon e mirate alla testa, seguono la procedura dei SAS, teneteli d'occhio, stategli col fiato sul collo, sono prevedibili, state tranquilli, siate precisi, sono colpi alla testa, ho ucciso bersagli i più difficili di questi tizi, rimanete in formazione, disciapolo 3, perlustrate il settore Charlie Zulu, ho già visto questa tattica, questi sono dei SAS, state attenti, questi sanno sparare sul serio, perlustrate i vostri settori, sparate solo quando dovete, i colpi alla testa valgono doppio, sparate in alto e sparate bene, mantenete un atteggiamento aggressivo, rimanete in contatto visivo con il bersaglio, andiamo, andiamo, pronti all'attacco, ricevuto, andiamo, armi pronte, team Charlie, provvedete alla cattura, team Alpha, ritornate al punto d'incontro Jester, i nemici sono penetrati nell'interno del complesso, procedete con estrema cautela, ho il bersaglio in vista, apre il fuoco, il diazepam è entrato in circolo, sono decisamente fuori dalla gittata, Granata, 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 muoversi! Granata, muoversi! Granata! Granata! Granata, muoversi! Granata, muoversi! Granata, via da qua! Tango a terra! Tango a terra! Preso! Bersaglio neutralizzato! Bersaglio neutralizzato! Me ne vado! Me ne vado! Cambio caricatore! Cambio caricatore! Ricarica! Ricarica! Copritemi, copritemi, copritemi Cessate il fuoco Fateli fuori Fateli saltare in aria Fatelo fuori In movimento, in movimento Sto andando, sto andando Uomo a terra, uomo a terra Abbiamo un uomo a terra Abbiamo un uomo a terra Uomo a terra, uomo a terra Ricevuto, lo vedo Ricevuto, bersaglio agganciato Ricevuto, lo vedo Ricevuto, bersaglio agganciato Non posso sparare Non posso sparare Non posso sparare, è fuori dalla mia traiettaria Ricevuto, 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 ricevuto Nemico avvistato, ci servono rinforzi Ricevuto, ci muoviamo Abbiamo un intruso, attivate l'allarme Rinforzi in arrivo Intrusione, chiudete tutte le uscite, mandate rinforzi Vi stiamo mandando aiuti Abbiamo un'intrusione, mi servono rinforzi Stiamo mandando rinforzi alla vostra posizione Abbiamo il nemico sottotiro Stiamo arrivando, aspettate Vedo l'intruso, è armato I rinforzi sono in arrivo, tenetelo occupato Lascia l'arma, butta la terra subito Messaggio ricevuto, vi mandiamo subito dei rinforzi Mani in alto, adesso Attenzione, RPG, 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 RPG Cosa diavolo è stato? Abbiamo un problema Andate a controllare Via, via C'è stata un'esplosione Muoversi L'ho sentita, sto andando Uomo a terra Perlustrate il perimetro È morto Bloccate tutte le uscite Adesso Uomo a terra Sparpagliatevi E perlustrate l'area Ho trovato un cadavere Cercate l'intruso Non fa niente Riprendo il mio giro di pattuglia Non ho trovato niente Riprendo il mio giro di pattuglia Non era niente Torno alla mia postazione Non ho trovato nulla Ma state attenti Niente da segnalare Occhi aperti Potrebbero esserci degli intrusi Non era niente Ma state allerta Tutto sotto controllo Riprendo il mio giro di pattuglia Tutto sotto controllo Perlustrate i vostri settori Per ogni segno di attività sospetta Eh? Cosa? C'è qualcuno? Un attimo Potrebbe esserci qualche problema Aspettate Penso che possa esserci un intruso Aspettate Un attimo Forse vedo qualcosa Eh? Chi è? Eh? Cos'era quel rumore? Ho sentito qualcosa Aspettate Penso di aver visto qualcosa Aspettate Ehi! C'è qualcuno? Ricevuto Scalar 3 Qui Oxide Ground Vi seguiamo chiaramente Sul quadrante 715389 Con chiara conferma Dal ripetitore del canyon Scalar 3 Attenzione Avatar 2 In attività Circa 076 Kilometri Sopra di voi State coprendo La loro area operativa Break Attendete nuovi ordini Passo Scalar 3 Spostatevi sul quadrante Papa Juliet November Rileviamo lieve attività sismica Nella zona Volate lungo il canyon E verificate Passo E chiudo Scalar 3 A Oxide Ground Siamo in volo E pronti a ricevere ordini Passo Oxide Ground Sì siamo noi Passo Ricevuto Oxide Ground Parlate Ricevuto Oxide Ground Ci teniamo in contatto Passo E chiudo Disciple 6 Coordinate quadrante degli obiettivi Ricevuto Disciple 6 I bersagli attraversano una zona con regole di ingaggio limitato Attendete autorizzazione Disciple 6 Autorizzazione non concessa Ripeto Non ingaggiare Gold Eagle vuole costruttore e modello degli obiettivi Passo Disciple 6 Siete autorizzati a ingaggiare Preparate gli SIC Gold Eagle vuole conferma visiva sulla rete Vi invieremo un RQ4 per effettuare il trasferimento Tempo di arrivo stimato Due minuti Disciple 4 Qui Oxide Proseguite Passo Forte e chiaro Disciple 4 Attendete parametri di codifica del segnale Passo Disciple 4 Potete trasmettere i dati a 350 all'antenna 7 Indice di codifica 7-9 Juliet Bravo Avviare lo scambio Passo Disciple 4 Credenziale autorizzate da Gold Eagle Ma mantenete la posizione Inviamo Butcher 3 per fare inventario Escortare il convoglio alla casa base Mi ricevete Passo Carnival 1 Qui Oxide Ricevuto Trasmettere quadrante Passo Carnival 1 Dati sul quadrante ricevuti Ripetete l'altezza Passo Ricevuto Carnival 1 33 metri Rimanete in attesa per ordine di deviazione Passo Carnival 1 portatevi in un luogo nascosto all'interno del quadrante E disattivate gli strumenti ottici Abbiamo bisogno che osserviate la fonte a occhio nudo Finché non verificheremo la visibilità via satellite State pronti e informateci Passo Disciple 3 siete autorizzati ad adottare misure letali se necessario Mantenete posizione offensiva mentre li scortate fuori dalla zona Coordinate 775692 Vi seguiremo con Avatar 1 Passo Disciple 3 mi ricevete Passo Ricevuto Disciple 3 Piazza un trasmettitore a infrarossi sul veicolo Avatar 1 sta arrivando per perlustrare la zona con visori termici Tornate alla vostra area di pattuglia entro 10 minuti Passo Disciple 3 Il vostro segnale è debole Passate alla frequenza di riserve e riprovate Passo Forte e chiaro Proseguite Passo Disciple 3 Le forze militari locali non sono autorizzate ad attraversare il nostro perimetro In che condizioni è il Victor? Passo Disciple 3 Rimanete in attesa di ordini Passo Carnival 3 Qui Oxide Descrivete la natura del problema Passo Ricevuto Carnival 3 Terminate l'inventario e fate un altro controllo per verificare tutti i RIB funzionanti e pronti per pattugliare Passo Qui Oxide Vi riceviamo Disciple 1 Il segnale è chiaro ora Passo Forte e chiaro Disciple 1 Proseguite la sorveglianza Siete autorizzati ad aprire il fuoco se vedete quei civili piazzare esplosivi improvvisati sulla strada State allerta Passo Oxide a Disciple 2 Qual è il vostro stato? Passo Ricevuto Disciple 2 Gold Eagle esige una spiegazione per il ritardo Passo Disciple 2 Il vostro equipaggiamento protettivo è più che sufficiente per il lavoro Indossatelo e riprendete il pattugliamento in fretta Passo Riprendete subito il pattugliamento Disciple 2 Siete indietro rispetto alla tabella di marcia Le direttive della casa base sul rischio di attracchi indesiderati sono ancora in vigore Ricevuto? Calma Disciple 2 Basta con le chiacchiere Passo e chiudo Oxide qui Carnival 1 Stiamo pattugliando il canale est della casa base Sembra che abbiamo rilevato una fonte di calore Ricevete Passo Oxide la fonte di calore è rilevata nel quadrante Charlie Oscar Delta Mike Whiskey 5,4,7,1,9 A 33 metri sul livello del mare Oxide Altezza 33 metri sul livello dell'acqua Ripeto 33 metri sul livello Passo Carnival 1 in attesa Passo Ha ricevuto Oxide Passo e chiudo Oxide Oxide qui Carnival 3 Stiamo verificando la consegna di nuovi Zodiac RHIB E c'è un problema Passo Ah Pare che sia successo qualcosa durante il trasporto Oxide Abbiamo solo 11 Zodiac su 20 Come indicato nella bolla 7 Charlie Alpha Break Due hanno danni notevoli sullo scafo e sono inutilizzabili Passo Ricevuto Oxide Tempo stimato 2 ore Ripeto 2 ore Passo e chiudo Oxide qui Disciple 6 Siamo alla vedetta a 2 km a nord dalla base Avvistata copia di Victor in movimento lungo una delle strade all'interno dell'aria con regole di ingaggio limitato Richiediamo autorizzazione per la 50 Passo Oxide Stanno per entrare nel quadrante 269 1 5 da 4 2 9 Procedendo circa 95 km all'ora Passo Ricevuto Oxide Siamo pronti a intervenire Dateci solo il via Rimaniamo in attesa Ricevuto Oxide Ci sono due camion Mercedes classe G neri Sembrano parzialmente corazzati per resistere al fuoco di armi leggere Nessun problema per il nostro arsenale Passo Ricevuto Oxide Ma non rimarrà molto da osservare Disciple 6 in ingaggio Passo e chiudo Disciple 1 Oxide Rispondete Oxide Mi ricevete? Passo Oxide Stiamo proseguendo la nostra pattuglia di ricognizione nell'area a nord della casa base Mantenendo contatto visivo con tre civili fuori dal perimetro nell'area Goldust a nord della cascata Ricevuto? Passo Ricevuto Oxide Siamo pronti a intervenire Passo e chiudo Mungus 2 Qui Disciple 1 Mi ricevete? Passo Mungus 2 Domanda Siete ancora alla sorveglianza delle attività sulla linea di rifornimento bravo? Passo Mungus 2 Al momento siamo impegnati a coprirvi il culo alla linea di rifornimento bravo Domanda Quanto tempo vi prenderà la vostra deviazione? Passo Ricevuto Mungus 2 Ci teniamo pronti fino a contatto visivo ristabilito Ora riportate qui le chiappe Passo e chiudo Oxide Qui Disciple 4 Passo Oxide Siamo a distanza al checkpoint pinstripe Abbiamo un convoglio di 4 Cioè 04 Victor carichi di merci che richiedono autorizzazione per avvicinarsi alla casa base Break Richiediamo canale sicuro per trasmettere le credenziali Banda 350 Mike Bravo Senza perdita dati su 7 Sierra Ricevete? Passo In attesa Oxide Passo Indice di codifica confermato Oxide Inviamo Break Attendiamo autorizzazione del personale Passo Forte e chiaro Oxide Li terremo qui al caldo finché non vedremo Butcher 3 Passo e chiudo Disciple 2 Oxide Abbiamo terminato la ricognizione nell'area di accertamento rapido Zebra Siamo in ritardo di circa 3 minuti Passo Oxide siamo stati colti da una tempesta di sabbia e ci siamo messi al riparo in una piccola grotta in attesa che finisca Passo Ricevuto Oxide Ci stiamo preparando 5 minuti e saremo in movimento Forte e chiaro Oxide E se torniamo prima invece ci pagano il doppio Disciple 1 qui Mongoose 2 ricevuto proseguite Disciple 1 qui Mongoose 2 Affermativo Tuttavia stiamo verificando attività a ovest della zona Break C'è una breccia in un punto della ricinzione elettrificata Passo Ricevuto Disciple 1 Immagino dai 2 ai 5 minuti ma siamo già sulla collina Vi dobbiamo un favore Oxide qui Disciple 3 mi ricevete Passo Ricevuto Oxide Questi tipi sono Ehi Oxide qui il codice verde Rettango a terra Abbiamo dovuto farli secchi Passo Qui Disciple 3 ricevuto Ci muoviamo Passo e chiudo Oxide qui Disciple 3 mi ricevete ora Passo Oxide abbiamo intercettato un Victor militare locale a circa 7 km sotto il DRM Zulu Ci sono 3 ripeto 0-3 unità a piedi nelle nostre mani Un ufficiale e due reclute Attendiamo istruzioni Passo Oxide Non sono sicuro Sembra un Watts lasciato dai russi in condizioni piuttosto provate Passo Oxide La situazione è cambiata I tre militari stanno diventando aggressivi Uno aveva un'arma nascosta Ora parlano di Euro Penso stiano parlando di una mazzetta Burni La situazione è Baile н'arma Preve Grazie a tutti.